Klikon Zombie Apocalypse Fin dal capitolo 1056, l'esistenza della Cross Guild ci ha messo in testa tante illazioni, sia dal punto di vista dei membri che ne fanno parte, sia per la mossa politica più rivoluzionaria del mondo della pirateria, ovvero mettere delle taglie sulle teste dei Marines. Quest'atto, oltre a conferire tantissima imprevedibilità al manga da qui in avanti, rende la Cross Guild un'organizzazione ancora più oscura di quanto si potesse immaginare. E oggi parleremo proprio del valore delle taglie che Bug e compagnia hanno stabilito per alcuni Marines. Mi occuperò personalmente di effettuare una vera e propria scaletta che proseguirà in ordine crescente. Naturalmente stiamo parlando di ipotesi, quindi sarà una scaletta personale dal momento che non abbiamo ancora notizie ufficiali, quindi sto teorizzando. Dunque, prima di iniziare occorre fare una precisazione. Le taglie che pendono sulle teste dei Marines non sono espresse in milioni di Barry, bensì in stelle. I Marines sono stati valutati su una gamma che va da 1 a 5 stelle. Non sappiamo se Bug e gli altri abbiano poi diffuso una leggenda che esprima il valore monetario di ogni stella, dirò dopo quello che penso in merito. Ciò che è certo è che Bug deve aver calcolato le taglie sia in base alla pericolosità combattiva del soggetto in questione, sia in base alle conseguenze politiche che scaturirebbero da una sua eventuale eliminazione o estromissione dalla marina. Ora, però, via con le taglie. Partiamo dai Marines che hanno, secondo me, una taglia da 1 stella. Fra questi c'è il capitano Tashigi. Tashigi ha sempre cercato di migliorare il suo pugno duro e pare che faccia dei progressi, anche se molto lenti. Il fatto di essere l'assistente di Smoker le permette ovviamente di migliorare più in fretta. Tuttavia è ancora acerba come Marine e non è certo nota né per la sua pericolosità né per la sua spietatezza contro i nemici. La sua fama, tuttavia, potrebbe averle permesso di farsi notare e di ottenere comunque una taglia da 1 stella. Un altro Marine a 1 stella è El Meppo. Quando parliamo di lui, parliamo di un personaggio che avrà sicuramente un ruolo in futuro nel manga, che potrà anche essere marginale, ma che non sarà trascurabile. La sua fama è quella del figlio di un ex capitano spietato, Morgan Manodasha, ma anche della spalla del ben più famoso capitano Kobe. Anche per lui, dunque, ipotizzo una taglia da 1 stella. L'ultimo protagonista di questa fascia potrebbe essere il capitano di corvetta full body, personaggio simbolo dell'idiozia che contraddistingue una parte della marina nell'opera. È un personaggio che si presta a tante gag e la sua fama potrebbe avergli conferito questo piccolo pezzo di protagonismo. Ma ora passiamo ai Marines con una taglia da 2 stelle. Qui il livello sale leggermente. A mio parere in questa fascia potrebbero rientrare alcuni bici ammiragli, ad esempio Momonga. Attenzione perché non stiamo parlando di uno sprovveduto. Acchi dell'armatura e della percezione, conoscenza approfondita delle tecniche rukushiki, serietà e grande senso della giustizia. Un individuo con queste caratteristiche e con questa esperienza pluriennale non può essere sottovalutato da uno come buggy. Un altro potrebbe essere Lons. Lons è un gigante e maneggia con destrezza un'ascia gigante. Non parliamo di un tipo tranquillo, anche se a Marineford ha fatto una pessima figura. Tuttavia non ha colpe perché l'uomo che lo ha distrutto era barba bianca. Lons quindi non ha avuto modo di mostrare le sue vere capacità ed essendo un vice ammiraglio avrà sicuramente altre occasioni. Tra le due stelle annovero anche Yamakaji, ovvero colui che ha comandato una flotta di navi e due serafini per andare a catturare Boa Encock ad Amazon Lily in seguito allo scioglimento della flotta dei sette. Non è cosa da poco, e nonostante la missione sia stata un fallimento, la colpa non si può certo attribuire in toto alla marina, visto l'intervento inaspettato di Titch. In ogni caso, l'assegnazione di un compito così importante deve necessariamente implicare la sua rilevanza nel corpo dei Marines. Il prossimo è John Jant. Anche qui parliamo di un gigante marine, più precisamente del primo gigante marine, cresciuto nell'orfanotrofio di Carmel e venduto al governo. Jant si è dimostrato molto forte a Marineford, dotato di grande leadership verso i suoi sottoposti. Anche lui ha avuto la sfortuna di essere abbattuto con un colpo da barba bianca, ma comunque ha grande esperienza. Il prossimo è colui che è stato inviato per arrestare proprio Baggy. Sto parlando del vice ammiraglio Stainless. La sua prima apparizione nel manga è stata parecchio brutta, preso di mira da Doflamingo che giocava coi suoi fili durante una riunione al quartier generale. Tuttavia è un Marine di un certo peso, a cui è stato assegnato un arduo compito, proprio come Yamakaji. Adesso, però, passiamo ai Marines con taglie da tre stelle. Il primo che voglio analizzare è l'eroe di Rocky Port, il capitano Kobe. Non sappiamo moltissimo in merito alla faccenda di Rocky Port, ma pare che il suo operato abbia facilitato la vita a barba nera. Kobe è uno dei personaggi chiave del manga, sia come Marine che in generale. Appare a inizio manga col sogno di diventare ammiraglio e fa tutta la gavetta, arrivando oggi ad avere un grande acchi della percezione e un buon acchi dell'armatura. Non sappiamo ancora quanto sia davvero cresciuto in forza, ma nonostante la sua giovinezza è già definito un eroe, proprio come il suo mentore Garp. Questo non fa che accrescere la fama di Kobe, che quindi è sicuramente annoverato tra i più pericolosi Marines da uno come Baggy. Ma a tre stelle annovero anche il vice ammiraglio, Zuru. È una donna potente, appartenente alla vecchia guardia dei Marines. Stiamo parlando di una persona che nelle sue missioni spalleggiava Sengoku e Garp. La sua infinita esperienza la rende pericolosissima, nonostante l'età avanzata. A dimostrazione di ciò, basta guardare la freddezza con cui opera e la compostezza con cui dialoga con un personaggio malfamato e pericoloso come Doflamingo. Chiudiamo la fascia delle tre stelle con un altro vice ammiraglio, il più promettente al momento. Sto parlando di Smoker, il Marine più ribelle dell'opera, nonché quello che affronta sempre le missioni più dure, senza mai tirarsi indietro e lasciarsi sconfiggere dagli istinti codardi. Smoker è sicuramente un pezzo da 90 tra i vice ammiragli, nonostante il suo gap con quello che sembrava essere il suo rivale, cioè Luffy, sia progressivamente aumentato con il prosieguo del manga. Le sue frequenti apparizioni dimostrano la volontà da parte di Oda di renderlo importante per l'opera. Sicuramente uno come lui non viene sminuito da buggy. Tenetevi forte, perché adesso entriamo nel vivo. Passiamo alle taglie da 4 stelle. Tra esse, a mio parere, c'è quella dell'ammiraglio Kizaru, che rappresenta uno dei pezzi da 90 dell'intero quartier generale. Gli ammiragli sono la potenza bellica per eccellenza della marina. Uno come Kizaru si è sempre prestato a uno svariato numero di gag, ma non l'abbiamo mai visto combattere seriamente. Pare quasi che Oda lo inserisca solo in situazioni in cui non è possibile sfigurare per lui. Questo denota il grande rispetto verso il personaggio e anche il piano che c'è dietro. È un vero e proprio mostro, e se Buggy vuole incentivare la gente a cacciare un marine del genere, deve sganciare molto grano. Esattamente come il prossimo a 4 stelle, Fujitora, anche lui ammiraglio. Fermo restando che non credo che resterà un marine ancora a lungo, la sua fama e la sua pericolosità lo rendono un bersaglio per nulla facile. Oltre alla sua potenza, ha dimostrato grande senso di giustizia e va facilmente in Berserk quando vede qualcosa che va contro la morale in cui crede, come dimostrato nella scena della sua apparizione al casino di Dressrosa. Dietro alla sua apparente calma, dunque, si nasconde un alto coefficiente di spietatezza. Il prossimo a 4 stelle è il terzo ammiraglio, Ryu Kuggyu. Sì, la sua apparizione a Wano non è stata delle migliori, ma praticamente ad Aramaki Oda ha riservato il trattamento opposto a quello di Kizaru. Quest'ultimo non sfigura mai, mentre Aramaki ha fatto la figura dell'idiota già alla sua seconda apparizione, risultando un codardo di prima classe. Con l'innegabile complicità della sponsorizzazione del film e quindi della conseguente aura potentissima che Shanks doveva per forza flexare. In ogni caso non possiamo certo considerare Aramaki un tizio facile da battere, parliamo di un ammiraglio che in quel momento avrebbe dovuto frotteggiare Foderi, Yamato, Ciurma di Luffy e Ciurma di Shanks. Su via, non siate troppo severi con lui, è stato per lo più vittima del fanservice. Ci siamo, è il momento delle taglie a 5 stelle. Il primo che voglio analizzare di questa fascia è l'ex grande ammiraglio Sengoku. È vero, è stato declassato, ma non di certo perché fosse diventato scarso o inadatto. Si è semplicemente assunto le sue responsabilità dopo la Guerra dei Vertici e ha capito che era il momento di farsi da parte. Parliamo comunque di un formidabile guerriero che ha tenuto a bada da solo l'intera ciurma di Titch durante la Guerra dei Vertici, senza contare l'incredibile peso politico che la sua figura si porta dietro, essendo uno della vecchia guardia che in giovane età rivaleggiava con Roger. Lo stesso Roger aveva grande rispetto di lui, sbeffeggiando i marin semplici e chiedendo a loro di poter combattere con uno del calibro di Sengoku. Perciò, a mio parere, le 5 stelle sono meritate. Esattamente come quelle della prossima leggenda, Monkey D. Garp, l'eroe della marina. Sapete cosa significa portare un titolo del genere? Garp è un simbolo immane. È vero, la vecchiaia è un fattore non indifferente in One Piece, ma noi dobbiamo comunque ragionare con la testa di Buggy. La reazione di Titch nel vedere Rayleigh ad Amazon Lily era quella di uno che stava per farsela addosso, eppure Rayleigh stesso ha poi ammesso che non avrebbe mai vinto contro Barba Nera. Questo significa che i personaggi della nuova era temono ancora tantissimo le leggende del passato, a prescindere dalla loro età. Da Garp mi aspetto grandi sviluppi nel manga, sia per via del suo concetto di giustizia spesso calpestato da molti suoi colleghi, sia per via del suo personale astio nei confronti dell'ultimo marina 5 stelle, che voglio analizzare. Il grande ammiraglio Sakazuki, l'uomo più rappresentativo della marina. Buttar giù lui vuol dire condannare l'intera organizzazione al fallimento. Oltre ad essere un individuo potentissimo, è un abilissimo stratega, che avrà sicuramente un ruolo di grandissima rilevanza nel prosieguo dell'opera, specialmente dopo gli avvenimenti che stanno attualmente destabilizzando il mondo di One Piece. A chi sicuramente più sviluppato che in passato, passato in cui aveva già dimostrato la padronanza del Ryuho, frutto del diavolo sgravatissimo, è caratterizzazione davvero villain dal pugno duro. Anche per lui una taglia da 5 stelle è inevitabile. Concludo questo giro di taglie dicendo che non sappiamo esattamente come abbiano intenzione, Buggy e gli altri, di pagare eventuali cacciatori di taglie che si presentano a missione compiuta. Tuttavia, nel caso in cui non sia disponibile la leggenda di cui parlavo a inizio video, sarebbe una furbata alla Buggy stabilire dopo il compenso, o meglio ancora, proporre ai suddetti di unirsi alla Cross Guild. Tipico di Crocodile invece, sarebbe l'atto di eliminare seduta stante chiunque si presenti al risultato ottenuto, per non sganciare alcun compenso. Buggy non sarebbe neanche contrario a uno scenario di questo tipo, tanto a Mihawk interessa soltanto pubblicizzare la sua bellissima, potentissima e nerissima Yoru, la spada migliore del mondo. Bene picciotti, per oggi è tutto. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del video e quali taglie assegnereste voi ai Marines. Alla prossima, sayonara! Bene picciotti, il video termina qui, speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!